buon pomeriggio ora ieri è stata la giornata della memoria non ho fatto video perché uno c'erano lo dico onestamente avevate una necessità più urgente e io ve l'ho detto a prescindere da tutto non ho bisogno di una giornata della memoria per ricordare quello che hanno passato i miei quello che hanno passato nel punto che ha passato la mia gente e quello che ha passato tanti altri perché io non mi ricordo solo dei nostri sei milioni mi ricordo anche degli altri sei milioni e mi ricordo anche di tanti altre persone che hanno sofferto anche a causa del mio governo del mio il mio governo nel passato e anche le colpe perché se uno si dimentica le proprie colpe non migliora mai non cresce mai non c'è autosoluzione io l'ho fatto perché quando sbagli sbagli però penso che voi lo sappiate benissimo quanto possa essere il critico verso il governo dell'ex uino io spero sempre certo sarebbe poter se avessi i famosi tre desideri la prima cosa che desideri non è la salute per me non è importante è la pace tra noi i nostri fratelli palestinesi e poi tra noi i nostri fratelli iraniani poi tra noi e tutti e tutti forse la pace capire un attimo le differenze dell'altro e cercare di apprezzare quelle differenze perché ti fanno crescere e non considerano un ostacolo qualcosa che ti deve separare dall'altro detto io non sono contento di una cosa a jack arriverà la comunicazione in questi giorni che vi ha lasciato sta prendendo ogni esame poi ci metterà i suoi tempi spero non lunghissimi dipendere anche un po dai maneggioni che abbiamo in casa l'inserimento di di sua nonna suo nonno il fratello di suo nonno e la mamma di jack tra i giusti per quello che hanno fatto per la nostra famiglia e vorrei fare una piccola nota così perché avevo detto a volte si giudicano le persone in modo molto molto semplicistico il fratello del nonno di jack era un fascio era un fascio convinto era un fascio convinto che però non ha mai considerato le leggi volute dal crapone contro firmate da bottai bottai firmando quella cosa quando era ministro di istruzione distrusse praticamente l'università italiana perché molti docenti di alta qualità erano nostri per dire quanto bottai era una persona intelligente assolutamente dovesse leggere i suoi suoi diari però certe cose non gliele perdoni punto e poi quel momento fece la cosa giusta poteva tranquillamente andare a denunciare dai cruchi la cosa invece aiuto mio no la mia famiglia sostanzialmente c'è mia nonna portato mio nonno è stato un lapso scusatemi mia nonna e nostra madre e sua sorella a scappare perché perché in quel momento era una persona e forse il vero valore della parola giusto è quello non è salvare una vita solo perché le vite che salvi sono le nostre e salvare una vita secondo me in generale e non è detto che quella vita sia quella di un essere umano certo io la vedo molto in maniera molto estesa però questo dovrebbe capire qual è il debito che abbiamo nei confronti della famiglia di jack noi non saremmo qui se quella sera suo nonno sua nonna non avessero fatto una scelta giusta se il fratello di suo nonno non avesse aiutato nostra nonna e nostra madre a scappare e sono quelle le cose non dovrebbe ricordarsi e quando si sentite dire che uffa perché mi è capitato l'avvocato ha fatto un video in merito a un bar di nazi fam perché quello sono non c'è un altro termine nazi fam vegane ambientaliste praticamente ha fatto dombola e la parola r ci sta tutto nel loro caso perché sono discriminatorie le loro atteggiamenti e una persona secondo me un commento assoluto nella giornata della memoria a parlare di questi argomenti allora premesso che non capisco cosa c'entra la shoah con questa manica di andate di cervello non c'entra niente però poi arriva quello sotto che ti dice io senza vis polemica trovo che sia stupido che sia sbagliato l'obbligatorietà della memoria ora io vorrei dire questo scimpanzé scarsamente voluto non mi interessa quello che voleva dire io quello che è scritto guardo quello che è scritto tu dici che non che l'obbligatorietà non è necessaria e loro io parlo dell'episodio di divorno ecco l'avvocato aveva risposto non avevo trovato un contenuto il contenuto gli avevo suggerito parli dell'episodio di divorno mi sembrava uno specchio perfetto per parlare della giornata della memoria dove due utilizzerò dei termini nostri idici e ebraici per non per evitare che l'algoritmo scleri anche se questo video non sarà mai monetizzato perché lo sciacallo sulla storia della mia gente queste due schmuck di 15 anni che hanno insultato vessato e sputacchiato un ragazzino i dodici anni perché era uno dei nostri la cosa successa a livorno patria del partito comunista per carità provincia di livorno scusatemi per carità commozione fiaccolate eccetera però il padre ha detto che né queste due schmuck queste due vulca sono mai scusate se non sapete cosa vuol dire andatevi a guardare vocabolari e neanche la famiglia di queste due schmuck di queste due vulca si è scusata sinceramente io non vedo perché il nome di queste due vulca non devono essere resi pubblici noi rendiamo pubblici i nomi di persone tanto per prendiamo non pubblici anche i nomi di queste due schmuck in modo che la gente sappia che queste due vulca sono bestie non hanno diritto sono cresciute marce e io so già che adesso partiranno due due cose da una parte quelli che diranno è stata una ragazzata no non è stata una ragazzata perché se al posto di questo padre che ha seguito la legge e ha denunciato ci fossi stato io come padre andavo a prendere quelle due femmine del canide avrei stampiato loro e tutta la loro famiglia me ne sbattevo il cazzo perché io sono stanco di queste giustificazioni è stata una ragazzata non è stata una ragazzata se queste due sono nati hanno un cervello già marcio a 15 anni qualcuno è responsabile qualcuno le ha cresciute così io non so se è stata la famiglia degli determinati valori e allora dovrebbero intervenire gli assistenti sociali e togliergli le figlie e farle fare un bel tso perché quelle di quello ha bisogno oltre che a mandarle a pulire con la ramazza e a calci nel sedere la terra dei fuochi così se prendono anche qualcosa per lo schifo che ce l'ha me ne può importare una sega oppure peggio ancora i social che sono dei ricettacoli fognari per queste cose e non è io ho fatto riferimento al video dell'avvocato ma io vi posso assicurare di aver letto porcate quando il qn per la nazione di firenze ha dato la notizia ho letto delle porcate lì sotto che facevano vomitare porcate che erano perfettamente visibili perché l'algoritmo non le ha toccate scommetto che se in quelle porcate ci avessero messo la parola con la n l'algoritmo sarebbe partito lancia in resta ma quando si tratta di noi l'algoritmo improvvisamente diventa acefalo perché ci sono un r di un tipo e c'è l'r di un altro tipo è importante ricordare perché quel giorno non è soltanto una rappresentazione della liberazione e io non smetterò mai di ringraziare l'esercito dell'armata rossa di essere entrata da auschwitz a differenza di quella cagata cagata di la vita è bella che vi esalta tanto che in realtà è una rappresentazione fumettistica e qualcuno ha avuto la ghigna di criticare scindirliste dicendo di che sia una rappresentazione edulcorata e la vita è bella cos'è la vita è bella cos'è parliamo di gente che buttava gli infanti contro le recensioni elettrificate e tu mi fai vedere un coglione che fa il guitto e che gli fanno fare il guitto jerry lewis quel famoso film non lo fece mai perché non se l'era sentita perché era troppo difficile e quando robin williams fece giacobi bugiardo non fu uno dei suoi migliori film e secondo ma perché non 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 si riusciva non riuscivi ad essere ironico a fronte di quello che vedevi perché lì non veniva distrutta soltanto il corpo veniva distrutta l'anima delle persone e ti inserivano un talo che ti distruggeva tutta la vita e primo levine è stato un testimone perché alla fine quel talo gli ha tolto la voglia di vivere per questo non si deve dimenticare per questo bisogna ricordare bisogna ricordare perché non succeda mai perché non succeda mai più perché non ci sia mai più nessuno che ti dica si fa così perché lo decido io e tu non hai diritto di accedere a questa cosa perché non sei del mio stesso tipo leggete esattamente le parole di primo levin sequestro negli occhi del medico si leggeva l'affermazione non è una domanda l'affermazione questa cosa non un essere umano questa cosa non ha diritto di essere viva bisogna ricordarsi queste cose bisogna ricordare chi al di là perché a volte mi capita di legge quello che ha fatto scendere scendere quello che ha fatto per l'asca non mi interessa quello che hanno fatto dopo quello che sono stati dopo perché siamo esseri umani io guardo quello che ha fatto in quel momento in quel momento specifico perché io grande rispetto per quell'abile politico perché un abile politico di giovanni ventitresimo perché lui fece attivamente determinate cose e per quel perché mi stanno mi sta discretamente antipatico il cocker che c'è adesso in vaticano perché appartiene una di quelle categorie che di quelli bestie vestite di marrone e di nero ne salvarono tante e chissà perché scappava tutto nel suo paese noi eichmann siamo andati a prenderlo la non siamo andati a prenderlo dall'altra parte quello che voglio dire che dimenticarsene produce questo l'ignorenza produce questo io non so se l'ignorenza e di queste due ragazzine scusatemi ho usato il termine gentile di queste due vulca è dovuta all'ignoranza dei genitori alla pessima educazione dei genitori e lì ve l'ho detto bisognerebbe intervenire i servizi sociali o semplicemente per i genitori sono stati assenti e li hanno abbandonati a se stesse con il fatto che e quindi hanno seguito il primo deficiente che in rete può dire la qualunque senza prendersi responsabilità di quello che dice ma questo è un dato di fatto che questo è quello che viene prodotto questa questo marciume viene prodotto e questo marciume che viene prodotto continua a produrne e continua infettare le cose ed è un discorso generale ve l'ho detto io non tolgo il mio paese delle colpe per mio paese ha le sue colpe come tutti i paesi del mondo e dovrebbero sempre se ricordate queste colpe per non ricaderci questo dovrebbe essere il senso più profondo della giornata alla memoria ma di fatto si scivola alcuni non accettano neanche più perché non vogliono apparire per così dire uniformi alla vulgata comune e allora non parliamo della giornata alla memoria perché ne parlano già tutti parliamo magari della crisi in ucraina con quella specie di zombie dormiente che hanno però dati oppure di togliere i coglioni trampo avrei votato biden però se continuano così continua così se i repubblicani propongono topo gigio e non buttano tutto in vacca veramente scegliendo un candidato da alienati secondo me continuando così biden prossimo presidente sarà ancora loro perché bagna dimostra fattualmente quello che è un idiota e la sua vice fa sembrare gente come torni nella castelli degli statisti di valore mondiale fate un po voi perché cito questo caso perché biden si sbatte per difendere l'ucraina no se la russia invade l'ucraina niente più gasdotto ma il galdosto non interessa gli stati interessano europa quando è che l'europa si fa un po i cazzacci suoi dice oh il gas serve a noi non a voi voi fatevi i cazzi vostri io sinceramente di spendere fatica per gli ucraini non me la sento e non perché ce l'abbia con ucraina è un bellissimo paese però non posso dimenticare che nel momento in cui sono entrati i tizi che facevano il passo dell'oca li hanno abbracciati e io so che arriverà il divulgatore di turno dirmi come hanno fatto per giustificare il discorso delle foibe gli italiani non stati cattivi si ho capito punisci cattivi non gli altri gli altri che c'entravano gli hai puniti solo perché erano italiani aiutati da altri italiani a fare questo ricordiamocelo dicevo quindi a me questo discorso qua fa girare veramente i coglioni ecco io posso tranquillamente ribattere che va bene stalin ha fatto le porcate che ha fatto e nessuno può discutere questo aspetto ma noi che c'entravamo perché la prima cosa che hanno fatto gli ucraini una volta entrati i signori col passo dell'oca è stata far partire i pogrom verso la mia gente che era ucraina mi spiegate allora cos'è questo ragionamento mi spiegate cosa centriamo noi pur di leccare il culo al padrone nuovo mi spiegate perché blasso ha avuto 600 mila volontari e quelli che sono rimasti sotto di lui per gli altri ci sono dati quelli che non erano erano quasi tutti ucraini criminali oltretutto perché veramente fecero cose aberranti pur di seguire il nuovo padrone spiegatemelo perché dove sbattermi per un paese che ha avuto questa storia spiegatemi perché la politica estera americana produce solo danni per chi la segue vi ricordate obama fuori dalle balle muba mettiamo i nuovi ortodossi mettiamo il disastro e tolto fuori dai coglioni morsi mettiamoci al sisi che è un uguale a mubarak pia dalle balle gheddafi per far contenta anche la francia perfetto quella zona lì ma non solo la libia tutto se tutto sa e sul sariano è una polveriera con continui colpi di dd e altre cose grazie alla politica americana e adesso con una volta la politica americana che ribadisco sta baciando il culo la cina che sta facendo cose nei confronti dei non zaccati degne del terzo reich sta facendo cose degli nel terzo reich ma guai a boicottare seriamente le manifestazioni come le olimpiadi invernali no l'anno mandiamo gli ambasciatori ma gli attenti li mandiamo questo quel boicottaggio americana stile jimmy carter ecco ma di fatto queste e non dovremmo seguire questi esempi non pensate che sto diragliando dal discorso ragionata della memoria questo è l'affresco dell'umanità l'affresco di delle persone che non ragionano ne fanno le cose tanto per tanto per farle è l'affresco di chi non se vuole ricordare queste cose perché probabilmente gli brucia la coscienza io me ne ricordo feltri che dice eh ma che palle o sono 60 anni eccetera eccetera feltri ora premesso che il giorno in cui finirai in un nuovo alloggio di due metri per uno sinceramente devi sperare che non mi scappi la pv perché sennò vengo a fartela sulla cassa perché mi fai schifo come essere umano ma detto questo dopo 60 anni siamo ancora qui a doverne parlare dopo 60 anni dopo 70 anni siamo ancora a doverne parlare fate una domanda testa di cazzo se ci arrivi a fare una domanda vista l'età e la scarsità dei neuroni fate una domanda e voglio chiudere su una cosa che mi riguarda ora voi sapete che io sono zaccato che ho sempre non ho mai contestato lo zack non ho mai contestato determinate cose quello che difende il vostro diritto alla scelta e parlo del diritto una scelta consapevole detto se uno mi dice non lo faccio perché ci sono dentro le nanomacchine o perché ci sono i rettiliani che vogliono controllare la terra piatta quello lì è un caso da tso non è una persona consapevole di fare una scelta e di assumersene anche le problematiche non è non lo metto neanche nel mazzo non metto nel mazzo le balanzoni petrella i minchia del cacchio che che se riescono con delle loro teorie da fumati di mente che magari e magari nel caso di petrella forse c'è anche qualche problema vero non soltanto così generico non mi metto in no batte la pesca tutti insieme allo stesso mazzo non ci metto perché come fa quello che sta facendo l'italiano è perché uno che si è fatto due zacc di scade e non ancora fatto il terzo finisce comunque di nuova tela pesca uno che non può fare lo zacc per motivi sanitari finisce tre nuova tela pesca tutto insieme non fa distinzioni è uno che ha dei dubbi legittimi che ha delle paure che sono state create dallo stesso stato perché non ha mai dato l'informazione corretta non ha mai spiegato chiaramente le cose non è mai stato limpido nelle sue azioni e ha una faccia da babbuino come ministro della sanità non posso accusare queste persone e una piccola digressione ho dimenticato il detto precedente si lei ha già detto che non vi prolungheranno lo stato di emergenza non mi prolungheranno lo stato di crisi sapete perché non lo prolungheranno perché così la germania contenta e soprattutto perché così non vi daranno più aiuti già mi hanno tolto tutto già mi hanno mandato in rovina e dopo aver fatto tutto questo non vi daranno più aiuti saranno cazzi nostri ma tornando a questo e per chiudere in maniera semplice vi per vendetta io parlo della graffina più del fumetto come si fa a creare il potere in quel fumetto guarda io è uno dei miei delle mie graffina preferite in assoluto di un'antichia sotto watchman semplicemente perché watchman amplia estremamente il discorso e va a toccare anche alcuni aspetti che non riguardano direttamente la saga lo si fa mettendo paura dando a qualcuno qualcosa su cui accanirsi qualcuno su cui accanirsi qualcuno verso cui puntare il dito che non è magari colpevole ma che tu fai diventare colpevole è quello che ha fatto il caporale bohimo con noi la responsabilità è sempre di quelli là è sempre loro anche se non c'entrano niente anzi anche sono stati uno dei motori per l'economia tedesca e per la cultura tedesca di fidare la colpa qualcuno il problema vero avevo detto è che una volta che ha dato colpo qualcuno assolvi le persone delle proprie responsabilità e dirà così potrebbero non è responsabilità mia è stato quello la io sono innocente non sono responsabile no la responsabilità ce l'avrai sempre hai la responsabilità delle tue scelte del tuo comportamento delle tue decisioni delle tue posizioni non è accusando un altro che ti togliereste responsabilità anzi ci sono tanti modi per far perdere la libertà alle persone con la forza oppure semplicemente con l'applauso e il tacito assenso delle pecore ciao a tutti